Fra tutti i pianeti del nostro universo ce n'è solo uno in grado di permettere la vita. La giusta distanza dal sole gli assicura un clima perfetto. L'asse di rotazione della Terra è inclinato esattamente di 23 gradi e mezzo rispetto al sole. Senza quell'angolazione perfetta tutto quello che conosciamo sarebbe diverso. E' grazie a questo che esistono le stagioni, gli estremi del clima, il caldo e il freddo e panorami di bellezza spettacolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passeremo un anno con le creature che lottano per far crescere i loro piccoli, in un mondo che cambia continuamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.